O SAVA CON COVAL VEPEO IL MONO D'ESTRO SUBIO Nome del Pane, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. Immacolata, Madonna dei Boschi, prega per noi. Carissimi, ecco, conosciuta l'essenza, la necessità, l'eccellenza e la grazia, l'ha vista la volta scorsa, dobbiamo passare senz'altro a studiare e conoscere i mezzi per i quali ordinariamente essa si trasmette a noi. A Gesù Cristo venuto al mondo per salvarci non bastò morire sulla croce per noi, non bastò fondare la sua chiesa e deposità della sua dottrina e dei suoi meriti, ma gli doveva anche lasciare a questa chiesa i mezzi e i segni per applicare e comunicare agli uomini fino alla fine del mondo i frutti della sua redenzione e dei suoi meriti, cioè la santificazione, appunto, la grazia. Teologi parlo di redenzione oggettiva, redenzione soggettiva, redenzione oggettiva, quello che ha compiuto Gesù, ecco, una volta per tutti, no? Unito a Maria Santissima, ecco, come nuova Eva, ecco, una volta per tutti, no? Quindi lui, questa redenzione è a valore, ecco, infinito, perpetuo. La razione soggettiva o in atto secondo, ecco, è l'applicazione di questi meriti in noi, che noi possiamo, appunto, secondando alla grazia o meno, far sì che questa grazia per noi sia efficace e quindi, ecco, salvifica. Se io rifiuto positivamente la grazia, la grazia è sufficiente perché è morto per tutti, ma è inefficace per me e quindi io, ecco, mi perdo. Ho rischio di perdere, appunto, accolgo la sua grazia, è l'ultimo, fino all'ultimo istante, ecco, della mia vita affinché sono in questo mondo, cioè il tempo della misericordia, quando passo dall'altra parte è il tempo della giustizia, ognuno riceverà, raccoglierà quello che ha seminato. Quindi abbiamo visto, ecco, che il Signore, per darci questa grazia, ecco, lo fa attraverso dei mezzi che sono i sacramenti, i mezzi ordinari, diciamolo. Poi il Signore avvia infinite per, appunto, toccarci il cuore. I sacramenti, quindi, sono chiamati giustamente i canali mistici attraverso i quali si deriva in noi la grazia santificante, come queste sette sorgenti collocate a Gesù Cristo in mezzo alla sua Chiesa, le quali gli uomini possono e devono attingere l'acqua di salvezza che gli fa poi salire, guadagnare la vita eterna. Quindi è necessario che ogni cristiano possieda una cognizione esatta della natura, dell'efficacia e del valore di questi mezzi stabiliti, imposti a Dio però per la nostra santificazione e salute. perché solo conoscendoli bene si può usarne bene, concepire la stima che si merita, di tranne quei vantaggi destinabili per cui vengono Gesù Cristo, ecco, stabiliti. Quindi ancora questa nuova catechesi, ecco, sui sacramenti, dopo quella sul credo, prima ancora mi fanno i dieci comandamenti, cerchiamo di mettere le fondamenta, rimettere a posto le fondamenta della fede cristiana, perché con la confusione che c'è adesso, ecco, veramente c'è. Oltre che c'è tanta ignoranza da una parte, c'è tanta confusione dall'alto. Ora mettiamo, diciamo, facciamo una nuova evangelizzazione, ridiciamo, ecco, la dottrina cristiana nella sua essenza, nella sua verità, nella sua integrità, affinché noi possiamo conoscerla per quella che è, per quella che magari chi di manica largo, eccetera, ce la vuole spacciare o diluolare o diluire o cambiare. No, non si può, perché questa c'è stata donata a Dio, noi questa dobbiamo annunciare. Non ho nessun diritto, è solo il dovere di annunciarla, se no sono responsabile. Io di fronte a Dio se la deturpo, la tagliuzza, ho fatto Lutero che ha tolto questo, ha tolto quell'altro, e fa se una religione a modo suo, e poi che fine ha fatto, no? Quindi, ecco, diciamo, la dottrina cristiana per quella che è, perché voi avete diritto, il fedele è un diritto di conoscere per quella che è, per avere tutti i mezzi per salvarsi, per santificarsi. Quindi va, ecco, proclamata, va annunciata integrale, la dottrina cattolica integrale. Ora vedremo, intanto, dando qualche nozione generale, cosa sono i sacramenti in questa lezione, no? Come si compongono e quali effetti producono. Che cosa sono i sacramenti? Il Catechismo ci dice, i sacramenti sono segni efficaci della grazia, istituiti da Gesù Cristo per santificarci. Quindi analizziamo questa definizione per intendere bene la natura e il valore dei sacramenti. Essi sono, anzitutto, segni della grazia. La parola segno, sapete, vuol dire una cosa che ci chiama alla mente l'idea di un'altra, ci rimanda un'altra cosa e in qualche modo ce la fa conoscere. Così il fumo, per esempio, è un segno del fuoco. L'orma impressa nella polvere su una neve è un segno del passaggio di una persona o di un animale. Il suono delle campane è segno di sacra funzione. Quindi in quanto noi, vedendo il fuoco, vedendo l'orma, udendo quel suono, entriamo in cognizione di altre cose che detti segni ci manifestano. Bene. Alla stessa maniera, i sacramenti si chiamano segni perché sono riti, cose esterne, visibili, che cadono sotto i sensi, le quali ci indicano la grazia di Dio. Per esempio, quando si amministra il battesimo, cosa vediamo? Vediamo il sacerdote che versa l'acqua battesimale sulla testa di un bambino, anche di un adulto, diciamo, normalmente di un bambino. Ebbene, quell'acqua versata è un segno che ci indica come per virtù dello Spirito Santo l'anima del bambino in quel momento viene lavata dalla macchia del peccato originale e arricchita della grazia santificante. Questa grazia santificante non la vediamo con gli occhi discendere in quell'anima, ma siamo certi che essa discende al momento che vediamo l'azione esteriore del sacramento. Quindi quando il sacramento è fatto come si deve, la grazia c'è. Notiamo subito che i sacramenti non sono soltanto segni che indicano la grazia, ma sono anche segni efficaci, pratici, che producono la grazia stessa. Quindi non solo mi indicano simbolicamente quello che avviene, ma di fatto, ecco, lo producono in effetti. Ci spieghiamo. Abbiamo prima nominato diversi segni di cose materiali, ma questi segni, fumano all'ormano, hanno solamente la proprietà di manifestare quelle cose, e non già la dirittù di produrle. Per esempio, il fumo non produce il fuoco, ma soltanto lo manifesta. L'orma sulla neve non produce il passaggio di una persona, ma soltanto nell'indice, giusto? Invece i sacramenti sono segni che non soltanto significano o denotano la grazia, sì, ma anche realmente la producono, cioè la conferiscono a colui che li riceve, purché naturalmente non vi ponga positivamente. ostacolo. Quindi, per tornare l'esempio di prima, nel battesimo è proprio l'acqua stessa, unita alle parole del ministro, io ti battezzo, eccetera, eccetera, quella che monda l'anima dal peccato. Ecco perché i sacramenti si chiamano segni, che rimandano, efficaci, che vuol dire segni operativi o produttivi di quanto significano. Bene. Ora qui, voi, Mari, mi domanderete, e da chi hanno i sacramenti, tanto ai metodi, porto la grazia? Giustamente, no? Certo che i segni materiali, per sé, non hanno nessuna forza, nessuna efficacia, certificare gli uomini, ovviamente, no? Ma chi ha dato loro questa efficacia è stato Gesù Cristo stesso, il quale ha voluto che per mezzo di essi ci fosse comunicata la santificazione, ecco, mediante la grazia. Anzi, a parlarti esattamente, è gli stesso, è Gesù Cristo, che per mezzo di questi segni opera in lui la santificazione, è lui stesso. Difatti, quantunque il sacramento venga compiuto da un uomo mediante l'unione della materia con la forma, lo spiegheremo meglio, pure quest'uomo non opera in nome e per virtù sua propria. Non è che io faccio in nome di padre donato, faccio il battesimo, ma in nome e per virtù di Gesù Cristo. Io ti assolgo i tuoi peccati, non io padre donato, io Gesù Cristo, perché in me agisce Cristo, il sacerdote dice sei in persona Cristo, in quel caso è Cristo che assolve mediante il suo ministro, no, il penitente, diciamo, quindi io dico non sei assolto dai tuoi peccati, ma io ti assolgo ai tuoi peccati e Cristo che assolve mediante il carattere sacro dell'ordine, in questo caso il sacerdote, quindi che opera attraverso il sacerdote. Quindi, l'agente principale nei sacramenti è Gesù Cristo che opera invisibilmente, mentre l'uomo non è che un agente secondario, diciamo, uno strumento, questo è un ministro, questo è un sacerdote, no, necessario per fare l'azione esterna, ma per sé non inetto a produrre la grazia, sì che come vedete i sacramenti sono azioni morali di Gesù Cristo compiute con le mani e con la voce dell'uomo che si chiama suo ministro. E qui si intende subito come l'efficacia dei sacramenti non dipende niente il fatto della santità del ministro che li conferisce, se no staremo freschi. Come potete dare una cosa così grande agli uomini che sono miserabili, no? Peccatori. Come l'effetto della medicina non dipende dalla qualità del medico che l'ha ordinata, ma dalla medicina stessa, così l'effetto dei sacramenti non dipende dalla qualità buona o cattiva di chi li ha ministra, ma dalla virtù che essi stessi hanno da Gesù Cristo. Perciò la soluzione data da un prete è cattivo e valida tanto come quella data da un prete buono. La messa celebrata da un sacerdote in peccato vale tanto come quella celebrata da un sacerdote santo. Quindi avviene il sacrificio. Poi è chiaro se c'è un Padre Pio che ci arriva alla messa tu hai capito la cosa da un sacerdote magari buono lì peggio ancora da uno cattivo, no? Però il sacrificio avviene lo stesso. Io sono lì ecco ricevo Gesù Cristo quindi partecipo ecco alla alla passione alla morte di Cristo stesso è un sacrificio che viene ripresentato misticamente ecco nell'altare come siamo collegati al Calvario come più di mille anni fa è lo stesso medesimo sacrificio quindi anche il sacerdote è impiocativo eccetera viene sacrificio è lo stesso chiaro che è meglio se c'è un sacerdote santo tutto per mille motivi è meglio però la sostanza c'è questo è importante il sacramento c'è in questo caso c'è questo è importante anche se vado assolido un sacerdote però la soluzione è valida se lui mi dà usa la formula giusta la soluzione è valida anche se lui poi il peggiore dei sacerdoti eccetera io però vengo assolto poi lui risponderà risponderà a Dio però io vengo assolto questo è molto importante perché non dipende ecco dalla santità in questo caso dipendono la santità le benedizioni gli esorcismi ecco che è un sacramentale parteciano gli esorcismi molto spesso anche lunedì sono andato ecco l'era lì essendo sacramentale dipende molto dalla santità ecco della fede dell'esorcista no e anche dalla fede di chi va a ricevere la preghiera l'esorcismo perché ecco lì dipende ecco ci dice dopo spieghiamo ex opera operante non agisce in virtù il proprio ma per la fede perché è un sacramentale è una benedizione particolare l'esorcismo mentre invece quando c'è la confessione può essere anche il peggior di sacerdoti ma è valida se c'è la formula giusta ecco quindi la materia che sono i peccati adesso vedremo che sia da Gesù Cristo solamente i sacramenti li siano tra loro efficaci e chi piace facilmente come soltanto Gesù Cristo poteva istituirli ok quale uomo infatti quale angio avrebbe avuto tante avventure da dare per esempio a un po' d'acqua versata sul capo del bambino della potenza di mondagli l'anima del peccato originale quale uomo quale angio avrebbe avuto tanta facoltà di dare ad alcune parole del sacerdote su un pezzo di pane su qualche goccia di vino la virtù di cambiare quel pane nel corpo saccatello di Gesù Cristo quel vino nel suo sangue adorabile qui ci vuole una potenza infinita ci vuole quel Dio che essendo il padrone della grazia può comunicare agli uomini con i mezzi che più gli piace ecco la ragione ecco la ragione per cui il concilio di Trento ha definito che tutti i sacramenti della nuova legge furono istituiti da Gesù Cristo che essendo vero Dio solo poteva dare a certe cerimonie a certi atti a certe parole la mirabile virtù di conferire la grazia ecco la ragione per cui secondo lo stesso concilio la Chiesa non può mai mutarli in quanto loro sostanza mai accrescire mai diminuirli ma è cambiare la materia o la forma deve custodire la loro integrità come gli stabiliti il suo fondatore ad esempio in Africa in Asia c'è la difficoltà del vino no? c'è amare di evare il vino e quindi in Africa abbiamo il cocco possiamo fare il vino di cocco ora la messa la facciamo a recolvino di cocco invece fare il vino con l'uva no? perché quella è la materia che ha stabilito Gesù Cristo quindi non è che si può cambiare facciamo il pane d'orzo perché l'orzo abbiamo tanto orzo qua invece il grano non ce l'abbiamo e quindi facciamo usiamo il pane d'orzo no ci vuole il grano ci vuole il pane pane vino vino perché questi ha scelto Gesù questi sono immutabili la chiesa questi sono di diritto divino la chiesa non può cambiare sono cose invece sono di diritto ecclesiastico che la chiesa può usare la cosiddetta dispenser può dispensare può modificare eccetera sono cose ecco diciamo di diritto ecclesiastico ma non quelle di diritto divino sono immutabili adesso qualcuno domanderà come Gesù Cristo ha voluto legare il conferimento della sua grazia dei segni puramente materiali quali sono i sacramenti non poteva egli conferirci da questa grazia senza bisogno né dell'acqua né dell'olio né del pane ma con qualche altro mezzo spirituale senza dubbio però vedete la sapienza infinita di Dio ecco ha voluto che gli uomini fossero identificati per mezzo di cose sensibili che li conosciamo attraverso i sensi perché in questo modo era il più conforme alla natura dell'uomo il quale essendo composto di materie di spirito per mezzo alle cose sensibili viene condotto al conoscimento delle cose spirituali ecco inoltre per altri diciamo per altri motivi e io l'ho fatto c'è tanti motivi però principalmente l'ho fatto perché voleva che trovassimo rimedio la vita in ciò stesso che aveva prodotto la nostra morte ecco una cosa di sottigliezza quindi vado a fare in tanti modi però dobbiamo considerare che Dio dice sempre il mondo perfettissimo la sua sapienza infinita quindi si ha scelto questo mondo qua questi mezzi qua che sono quelli più perfetti quindi ecco che cos'è diciamo il peccato se non un abuso delle cose materiali sono precisamente i sensi che ci rovinano giusto ebbene egli è voluto nella sua sapienza che sono le cose stesse materiali e sensibili cioè i sacramenti che ci riportino la vita e gli fa come dice l'allustre scrittore ecco il buono belli come una madre amorosa la quale volendo dare al suo figlio una medicina di cui ha bisogno e nascondi quelli vivanti di cui è più di otto così riesci a donargli la perduta sanità l'industriosità di una madre diciamo cosa fa cosa non farebbe per il figlio cosa non fa quindi ecco sacramenti generali come si compongono ecco spiegavano il discorso la materia e la forma tre sono le cose tre sono le cose sensibili cioè gli elementi necessari a costituire un sacramento la materia la forma e il ministro la materia è quella cosa materiale corporea che si adopera per compiere l'atto del sacramento per esempio l'acqua l'olio il pane il vino ecco questa diciamo è la definizione comune però la notano ad essere esatti si dovrebbe dire che la materia è quella cosa o azione che la chiesa adopera ad esempio nell'ordi sacramento all'ordi la materia è l'imposizione delle mani comunque ecco diciamo la materia è quella cosa che si adopta per compiere l'atto del sacramento la forma sono le parole che determinano il fine per cui si adopta la materia e quindi comunicano a questa il carattere specifico di materia sacramentale per esempio battezzo le parole io ti battezzo nel notizio caio sempronio ti battezzo il nome del padre fio spirito santo vuol dire io ti battezzo il nome di Gesù ti battezzo il nome dello spirito santo non è valida la formula deve essere esalta integra tizio caia io ti battezzo nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo questa è la formula l'acqua e la materia e c'è il ministro appunto ecco il sacerdote che in caso di emergenza può essere anche un qualsiasi fedele ma anche un pagano se capita che può prendere l'acqua facendo l'intenzione di cui va la chiesa se lui chiede per favore mi puoi battezzare sto per morire eccetera prendi un po' d'acqua mi devi dire queste parole eccetera eccetera secondo quello che è la mia fede riguardo la mia fede se sto qua mi dice va bene io ti faccio conto che tu stai morendo prende l'acqua dici Mario Giuseppe Antonio io ti battezzo a nome del Padre e figlio dello Spirito Santo è valido anche se fatto da un musulmano per dire eccetera se usa la materia acqua usa le parole testuali e quindi in questo caso si fa il ministro in questa emergenza c'è un incidente eccetera io non sono battezzato ecco non chiedo il battesimo per salvarmi eccetera eccetera come nel bellissimo sempre romanzo di Fabio ecco la fine protagonista no? ancora gli umani sembra anche per fare un po' stregoneria eccetera insomma fin fine stava scappando è arrivata giusto in tempo per chiedere il battesimo c'era una freccia ma stava morendo hanno preso l'acqua la battezzata è seduta stante ecco si è salvata diciamo ecco quindi nella penitenza nella confessa parole e io ti assovo dei tuoi peccati in nome del Padre e del Fino in nome del Spirito no in teo sovra in nome Gesù io ti assovo dei tuoi peccati in nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo ame queste sono le parole della forma che devono essere integre se no non c'è la validità le quali parole fanno vedere che si applica la materia al fine di cancellare i peccati in questo caso che è il fine del sacramento ministro poi quella persona che applicando la materia e proferendo le parole della forma abbia tutto insieme l'autorità e la volontà di compiere il sacramento poi qualsiasi la materia la forma ministro nel sacramento spiegheremo in seguito vedendo poi i sacramenti uno per uno no parlando vedendo i sacramenti in particolare adesso stiamo diciamo nella cosa generica poi andremo nello specifico ora per farvi notare questi tre elementi sono tutti necessari per formare il sacramento in modo che se ne mancasse anche solo uno sacramento non ci sarebbe più se fosse mancasse per esempio la materia manca l'acqua battesi non gioverebbe nella forma nel ministro nell'uso la coca cola per battezzarti se mancasse la forma non gioverebbe nel ministro nella materia verso l'acqua non dico niente o dico quello che mi viene in mente se mancasse il ministro non gioverebbe nella materia nella forma perché ci vuole qualcuno che prenda l'acqua e che dica la formula se no la materia infatti sia acqua olio pane o vino si può prestare a molti usi e perché serve a costituire quel dato sacramento necessario esprimere con le parole ossia con la forma a qual uso e a qual fine si adopera l'acqua per esempio non serve a levare la sete non serve a togliere le macchine non serve a innaffiare i fiori non serve a spegnere il fuoco quando dunque si versa sul capo del bambino o del battezzando bisogna manifestare con le parole che la si versa per amministrare il battesimo ecco la necessità della forma lo stesso avviene delle parole siano pure belle e sante quanto si vuole parole non sono che parole e possono pronunciarsi per tanti motivi per imparare le memorie per insegnare ad altri per scherzo eccetera quando e quindi che esse prendono il vero suono sacramentale? quando si applicano alla materia ed ecco la necessità della materia si sa poi bene che per fare tutto ciò e farlo efficacemente ci vuole un ministro idoneo o su una persona la quale ne abbia il potere e il volere non è che si fa per scherzo ecco uno viene battezzato così c'era ci vuole intenzione la materia di farlo eccetera voi direte e questi elementi devono essere invariabilmente sempre gli stessi non si potrebbe sostituire alle volte una materia un'altra materia una forma con un'altra forma eccetera no abbiamo detto prima la materia la forma il ministro i sacramenti furono già determinati a Gesù Cristo e neanche la Chiesa li può variare perché variando si muterebbe la sostanza i sacramenti stessi è stato Gesù Cristo che ha comunicato a virtù specifico la data materia a quella data forma a quel dato ministro in modo che se uno di questi elementi viene cambiato non c'è più virtù non c'è più alcun sacramento terzo punto vediamo quali effetti producono in noi sempre tre sono gli effetti che operano i sacramenti due sono comuni a tutti sono la grazia santificante e la grazia sacramentale il terzo è proprio solamente del battesimo della cresima e dell'ordine sacro cioè è il carattere che si imprimono nell'anima nostra un carattere come un marchio diciamo nell'anima quando sei battezzato con un carattere sacro tu sei battezzato per sempre se anche fai apostasie riniechi tu sei un battezzato apostata la cresima imprime il carattere quindi anche quella rimane per sempre il sacramento dell'ordine è sacerdote in eterno se uno si spreta fa quello che vuole rimane sacerdote spretato ma sacerdote per sempre c'è questo carattere impresso nell'anima che rimane per sempre ora quindi la grazia santificante l'abbiamo già spiegata una volta scorsa mi ha spiegato diciamo la sufficienza quindi diciamo soltanto che essa si può si deve considerare sotto due aspetti in quanto cioè da peccatori ci fa diventare giusti e in quanto da giusti che siamo ci fa diventare più giusti ancora quindi grazia attuale che ci spinge dal peccato ecco diciamo a tornare appunto alla grazia e quando invece quella santificante ci fa accrescere la grazia diciamo grazia prima e grazia seconda quella mi aiuta a recuperarla quella altra mi aiuta ad avverla e diciamo ad accrescerla ecco ora ci sono dei sacramenti che ci conferiscono la prima grazia quella cioè per la quale dallo stato di peccato passiamo allo stato di santità di giustizia diventiamo amici di Dio e quindi ci sono due il battesimo e la penitenza quindi si comprende meglio il battesimo e la penitenza di chi perciò sacramenti dei morti che vuol dire fatti per coloro che sono morti e la grazia è sempre i peccatori peccatori è peccato mortale se dice tutti siamo peccatori chi è in peccato mortale e ci sono dei sacramenti che ci conferiscono la seconda grazia la quale non è altro che un aumento della prima che già possediamo nel cuore e quindi sono tutti gli altri cinque di chi perciò sacramenti dei vivi in quanto che si danno alle anime vive alla vita soprannaturale sia quelle anime che sono in grazia di Dio quindi il battesimo e la confessione la penitenza si va a ricevere per uscire per uscire dal peccato ed entrare nella grazia gli altri cinque invece cioè la cresce lo carestino ordine sacro non sono gli inferi matrimonio si va a ricevere per accrescere la grazia che già possediamo di modo di modo che ricevendoli in peccato mortale si commetterebbe una grave profanazione e ecco si farebbe sacrilegio praticamente quando si fa un sacramento in peccato mortale si fa profanazione del sacramento quindi sacrilegio è un peccato gravissimo ma oltre la grazia santificante prima o seconda ovviamente questo vale per tutti i sette sacramenti c'è uno anche la cosiddetta grazia scusate oltre la grazia santificante scusate perché se no ma oltre la grazia santificante prima o seconda i sette sacramenti ci comunico anche la cosiddetta grazia sacramentale cioè specifica di quel sacramento cos'è questa grazia sacramentale appunto una grazia speciale tutta propria di ciascun sacramento e ci spieghiamo ogni sacramento ha il suo fine speciale voluto da Dio che se non l'avessi inutimente se non ne avrebbe istituito sette perché uno solo sarebbe stato confere la grazia santificante se è battezzato a posto quindi hai tutta la grazia santificante se è a posto orbene la grazia sacramentale consiste in un aiuto particolare che in forza di quel sacramento ci dona il Signore che in forza di quel sacramento che il Signore ci dona perché possiamo conseguire quel fine a cui fu ordinato da Dio quel sacramento Quindi la grazia sacramentale consiste all'inito particolare che in forza quel sacramento ci dona il Signore perché possiamo conseguire quel fine a cui fu ordinato da Dio quel sacramento. Il battesimo, per esempio, ha per fine speciale di renderci somigliante a Gesù Cristo con l'imitazione delle sue opere, con la pratica costante della sua legge, quindi ci rende anche figli di Dio, ed ecco che esso, oltre alla grazia santificante, ci dà anche l'aiuto necessario per conseguire questo fine. Ci rende figli di Dio, ci rende, ecco, diciamo di cercare di poi con il battesimo diventare simili, ecco, a Gesù Cristo. La cresima fu istituita per renderci costanti nel professare la fede in fronte al mondo, ed ecco che, oltre alla seconda grazia, essa ci dà questo scopo, l'aiuto proporzionato. Così l'eucaristia fu istituita perché fosse il nutrimento spirituale dell'anima nostra che alimentasse, cioè in noi, la fede, la speranza e la carità. La penitenza o confessione perché fosse un rimedio al peccato. Non sono gli infermi per essersi di conforto, d'aiuto a ogni estremamente della vita. L'ordine sacro per formare i sacerdoti santi. Il matrimonio per santificare l'unione dei conugi, aiutarli a compi i loro doveri. Ed ecco che tutti quegli sacramenti, insieme alla grazia santificante, conferiscono anche lo speciale aiuto che è necessario per conseguire il fine proprio di ciascuno, aiuto che si chiama quindi con nome di grazia sacramentale. Finalmente vi sono dei sacramenti che imprimono nell'anima nostra un carattere particolare, abbiamo detto prima, sono il battesimo, la caresima e l'ordine. Che cos'è questo carattere? Ripetiamo, è un segno, un'impronta, un sigillo incancellabile che questi sacramenti lasciano stabilmente nell'anima di chi riceve. Per cui si distinguono, si distingueranno sempre i battezzati dai non battezzati, i cresimati dai non cresimati, quelli che ricevettero l'ordine sacro da quelli che lo ricevettero. Tale segno è invisibile agli occhi del corpo perché è segno puramente spirituale, ma è visibilissimo a Dio, agli angeli e ai santi, lo sarà anche a noi stessi nell'altra vita. Il battesimo ci imprime nell'anima il carattere di cristiano. La cresima, quello di soldato, diciamo, di Gesù Cristo, l'ordine, quello di suo ministro. E un tal carattere si perderà mai né in vita né dopo la morte. Un battezzato diventerà un apposta dalla fede, uno scenerato ma resterà sempre cristiano. Un cresimato diventerà un soldato ribelle e traditore ma sarà sempre soldato di Cristo. Un prete diventerà un giuda, un sacrile o contraditore ma sarà sempre prete. Nell'altra vita il suo carattere gli sarà di decoro, di gloria, se salvo, gli sarà invece di confusione, di ignominia eterna, se sarà condannato. Esso è tanto indeleve, dico i teologi, che se per ipotesi chi fu battezzato, cresimato, ordinato, avesse dopo morte a risuscitare e tornare al mondo, non avrebbe bisogno di ricevere questi sacramenti perché il loro carattere non fu distrutto neppure dalla morte. Ragione per cui questi tre sacramenti, a differenza degli altri, non si possono ricevere che una sola volta. Conclusione. Terminiamo con un pensiero che corrispondano alla mente dopo le cose dette e spiegate. Se tanta fu la bontà di Dio verso di noi, se tanta fu la sua solicitudine amorosa per salvarci, da fornirci con sapientissima industria tutti i mezzi necessari e provvederci tutte le agevolezze possibili. Quale responsabilità non sarà la nostra se non vi corrisponderemo a dovere? Quale rendi conto se non useremo bene dei suoi beni, specialmente dei sacramenti? Peggio, quale delitto il disprezzarli, il profanarli, il rinegarli? La storia ci riferisce di Giuliano l'Apostata, che da cristiano divenuto persecutore feroce della fede, non poteva avere pace al pensiero di essere stato battezzato e tentò di via per strapparsi, se fosse stato possibile, dall'anima l'impronta al battesimo ricevuto, lavandosi perfino nel sangue delle vittime che faceva offrire dei falsi, tuffandoli, tuffandoli in quel sangue le sue mani per purgare, diceva ieri dall'infamia essere stato segnato alla croce di Cristo. Sono delitti inconcepibili. Infatti Giuliano l'Apostata, diciamo quasi per antonomagia, no? Forse mancano i nostri giorni coloro che rinnegano praticamente la dignità dei cristiani, profanando con una vita, indegna il carattere sacro che hanno ricevuto, che i sacramenti reputano persino un disonore apparire davanti al mondo segnati alla croce di Cristo? Guai a costoro. Allora vediamo sempre qualche approfondimento, similitudine, fatto, commento. Istituzioni sublimi. Il celemproeta tedesco Wolfgang Goethe scriveva I sacramenti presentano e sono propriamente tutto ciò che la religione cristiana ha di più sublime, da che riescono i simboli visivi dell'amore e la fonte della grazia straordinaria di Dio. Per essi la culla e la tomba si trovano congiunti a uno splendido circolo di santi azioni, di cui la sola chiesa cattolica ha il privilegio, nella quale soltanto l'uomo trova le più suavi consolazioni e i più efficaci sussidi. Le fonti salutari. Quanti malati vi siano, dice, sospirando un santo i quali nella stagione estiva si recola stabilimenti di bagni di acque minerali per cercare i medi normalori? E quante spese e quanti viaggi non fanno per conseguire la sospirata guarigione? Eppure non tutti guariscono, mentre noi per le malattie dell'anima abbiamo nei santi sacramenti altrettanti sorgenti e salutari infalibili, purché vi ci accostiamo a quelle dovute disposizioni. Perché dunque tanti peccatori premurosissimi nel cercare un rimedio molto incerto e normali fisici trascurano di accorrere a queste fonti salutari, preparati alla divina bontà, oppure vi si accostano senza dovute disposizioni? I biglietti di banca Un tempo non si conoscevano che le monete di metallo, oggi di esso sono distrutti dai biglietti di banca. Non in quel caso di cercare o mi sarà organizzata questa delicatissima funzione bancaria, ma è un fatto che il biglietto per sé cosa da nulla, ma in realtà chi lo possiede possiede un valore effettivo e lo spende per rispettivo valore. Così i sacramenti in sé e le materialità sono cose da nulla, ma in realtà chi debitamente riceve con essi riceve un preciosissimo tesoro spirituale. Disposizione del cuore L'acqua di sua natura penetra, inumidisce e bagna i corpi, ma se voi immergete nell'acqua un pezzo di acciaio, l'acqua certamente non penetra, non inumidisce né lo bagna nel suo interno. Perché ciò? Perché l'acciaio non ha la proprietà di essere penetrato, inumidito, bagnato dall'acqua, benché l'acqua per sé stessa abbia la virtù di penetrare, di inumidire e bagnare. Quindi applichiamo la similitudine al caso nostro. I sacramenti per sé stessi producono sempre e infallibilmente la grazia in tutti quelli che ricevono, condizione però che non vi pongono impedimento, cioè abbiano le disposizioni necessarie per riceverla. Questa disposizione per ricevere la grazia non è già la causa della grazia stessa, ma è una condizione necessaria per riceverla. L'essere un corpo poroso fino a quel grado nella causa l'imbevasi di acqua, ma condizione richiesta per bagnarsi in breve. Il sacramento per sé stesso produce la grazia in chi lo riceve. Se l'anima è disposta la grazia vi entra e vi resta. Se non è disposta la grazia viene ugualmente, ma non entra nell'anima e passa via come un ospite che trova la porta chiusa e se ne va, o come la fiamma che tocca una pietra tutta l'avvolge ma non può accenderla. Efficace e indipendente dal ministro. Come l'acqua che innaffia le campagne e la rende feconda, niente perde la sua virtù se passa per canali di dura pietra, così anche l'acqua mista dei sacramenti non perde la sua efficacia se passa per canali di sasso, cioè viene dispensata da sacerdoti che hanno il cuore indurito nella colpa. Questo è Sant'Agostino. Samona Ventura dice Se i sacramenti potessero venire amministrati solo da ministri buoni, si dovrebbe sempre ripetere perché non si avrà mai la certezza che il ministro sia degno, e non vi sarebbe quindi sicurezza di salvezza. Un giudice come uomo privato può essere peggiore dell'imputato, eppure può condannare questo per un delitto. Una moneta ricevuta alla mano di un indegno è il medesimo valore di quella ricevuta alla mano di un uomo pio. Il vino buono è sempre tale, sia versato in bicchiere di vetro o in uno di argento. Così avviene l'amministrazione dei sacramenti. L'efficacia dei sacramenti da teologi è denominata ex opere, operato. I sacramenti, cioè, agiscono di per sé, non già in virtù dei meriti di chi li conferisce o di chi li riceve. Basta che il ministro usi la materia e la forma prescritta e dà bene l'intenzione necessaria, basta che il soggetto o ricevente non opponga alcun ostacolo al sacramento, e poi questo agisce di per sé. Come le medicine materiali hanno in sé stesse la loro virtù medicinale non dipendentemente dalla persona del medico o della malato, purché questi si ingrano di riceverle così i sacramenti. Grazie sacramentale. Una grazia particolare, propria del sacramento, e questa è la grazia sacramentale. Ecco, abbiamo terminato, quindi chiediamo appunto a Maria Santissima e dici, quante le grazie, ecco, di far sì che il nostro cuore appunto sia sempre disposto a ricevere i santi sacramenti, poter far sì che questa grazia cresca sempre più in noi, così ecco, saremo sempre più simili a Dio, saremo sempre più santi e potremo così un giorno, oltre che meritare il paradiso, però anche goderlo maggiormente per tutta l'eternità. Non a questo affidiamo, ma le Santissime ammade la Chiesa e comande i misericordi che posso sempre pregare, intercedere per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E con il suo Devo in Figlio benedica la Verge Maria nel nome del Padre e del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria.